Il Mamitou nasce nel 1997 come associazione di sostegno alla genitorialità condivisa. La scuola dell'infanzia viene costituita alcuni anni dopo e dal 2012 è gestito dalla cooperativa sociale Gulliver per conto del comune di Modena. Le finalità che si perseguono sono incentrate allo sviluppo globale della persona, riconoscendo e valorizzando in ogni bambina e bambino i propri talenti. Il pedagogista e gli insegnanti creano e allestiscono gli spazi e gli ambienti e agiscono nel quotidiano al fine di sostenere la maturazione dell'identità, la stima di sé, l'apprestamento e valorizzazione dell'identità degli altri, la conquista delle autonomie, a pensare liberamente e agire per il bene comune. Inoltre le relazioni con gli altri bambini e con gli adulti vogliono contribuire ad affrontare i conflitti come occasione di confronto e crescita. Nel laboratorio suoni e movimento si valorizza la psicomotricità e la coesione con il suono e la musica, un'attività che permette al bambino di esprimersi attraverso il movimento e il gioco, creando significative relazioni con l'altro. L'obiettivo principale è quello di aiutare l'integrazione armonica degli aspetti motori, affettivo-relazionali, cognitivi e sociali. Nel laboratorio degli esperimenti si vuole dare rilievo alle esperienze dirette di contatto con le cose immateriali, per incoraggiare ed orientare i bambini verso percorsi di esplorazione e ricerca attraverso il metodo sperimentale. L'insegnante si pone da mediatore e facilitatore degli apprendimenti senza dare risposte dirette, ossia lasciando parlare le domande. Nello spazio dedicato alla costruttività si offrono infinite opportunità per migliorare le abilità logico-matematiche attraverso l'esplorazione immaginativa. I bambini si confrontano su concetti di ordine fisico come equilibrio, bilanciamento e peso. Il linguaggio costruttivo sostiene anche concetti matematici e concetti topologici. Nostra finalità è anche sostenere la metacognizione, ovvero imparare di imparare. Ciò viene fatto anche attraverso il pensiero computazionale, perché aiuta a pensare in modo originale, mai banale e mai ripetitivo, potenziando a sua volta l'abilità di problem solving. Sostenere le finalità educative e didattiche della scuola è possibile solo se il dentro e il fuori dialogano e si fondono quotidianamente. Il progetto di educazione all'aperto in cui crede la scuola permette di stare in natura e stare in relazione tra le persone e le persone e l'ambiente, in ogni stagione e con ogni evento atmosferico. Il Mammitù ha partecipato al convegno Movimparo, organizzato dal Comune di Modena, per raccontare la sua esperienza nell'educazione senso-motoria e outdoor education. Inoltre, la stampa locale ha dato risalto all'esperienza da noi ideata e attivata della scuola per mamme straniere. Tutto il personale sostiene la partecipazione delle famiglie, vissute come risorsa, portatrici di cultura e di competenze, e il rapporto con il territorio, proponendo progetti mirati con le agenzie educative del Comune.